Si schiera a favore della proposta di legge della consigliera regionale Barbara Mazzali, Giuseppe Torchio, per quel che concerne l'eradicazione della nutria, partendo dal caso di Torre dei Picenardi, con una voragine aperta dai roditori sulla massicciata sotto i binari, scoperta da un contadino e segnalata poi dal sindaco Bazzani, per dire che governo e regione dove è possibile dovrebbero lasciare a province e comuni, enti locali più radicati sul territorio, l'autorità di intervenire, come chiede appunto la proposta di legge Mazzali. La prima questione è legata alle competenze. Oggi i comuni intervengono, la provincia interviene, la regione deve legiferare insieme allo Stato. Possibilmente speriamo che legiferino mia, una sebra e un sui pel, ma in maniera conforme e coerente e conseguente. La seconda questione è che se i comuni con le ordinanze e le province con i piani di abbattimento o di contenimento sono nelle condizioni di intervenire, non devono essere spropriate dalla regione. Deve esserci il potere conferito ai livelli locali e la surroga. Se tu comune, se tu provincia, non intervieni, io regione ti porto via la competenza e la gestisco direttamente. Discorso identico per quel che concerne la formazione di chi è poi pronto al contenimento del roditore. Non si può centralmente gestire gli esami a Milano con una iper burocratizzazione di tutto il sistema, sì i livelli locali e i guardi a caccia locali e gli uffici venatori locali sono nelle condizioni di gestire. Ammettere sostanzialmente una sinergia tra la funzione nazionale e regionale, quindi pubblica, degli enti locali e la compartecipazione anche dei consorsi, la sinergia tra il pubblico e il privato.